Lodo Serafini, questa sera una votazione in comune, è un passaggio cruciale di questo momento politico della città? Certo, io direi che innanzitutto una tegola su questa amministrazione perché è arrivato non in maniera inaspettata, perché comunque sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata la sentenza, ma questo in qualche maniera ci blocca una serie di investimenti che avevamo previsto sulla città, soprattutto dal punto di vista sportivo e anche a livello infrastrutturale, che comunque ci mette un po' in difficoltà, non lo nascondiamo. Però vorrei evidenziare e ricordare che questo Lodo Serafini, questo pagamento di questa sentenza, viene da lontano, viene da lontano 2003, dove era stato dato un permesso a costruire una zona di rispetto e in maniera a volte, cioè che uno dice anche in maniera anomala, perché è proprio a ridosso di uno svincolo e insomma lascia un po' perplessi la scelta di allora. Quindi dal 2003 si è trascinato fino al 2008 che c'è stata la sentenza di primo grado, poi con una serie di ricorsi, il ricorso all'appello, si è cercato di bloccare, tant'è si è chiesta inizialmente una sospensiva e c'è stata negata, poi una fiduzione a copertura del pagamento, ci è stata negata anche questa e ci troviamo in una situazione attuale a dover pagare colpe che evidentemente non sono nostre. Ecco, tutto nasce nel 2003. A questo punto qual è l'iter? Cioè che cosa avete intenzione di fare per comunque poter rivalervi se è il caso di rifarlo? Beh, innanzitutto occorre pagare, perché qui c'è una sentenza del tribunale e dobbiamo pagare e non possiamo esimerci. Aspettiamo la sentenza della Cassazione, che non sappiamo a quando avverrà. A quel punto poi ci sarà la Corte dei Conti che dovrà certificare eventuali responsabilità nei confronti della parte tecnica e amministrativa e dopodiché dovremo fare i dovuti ricorsi nei confronti sia dei personaggi che comunque hanno avvallato certe scelte che anche forse dell'ANAS che inizialmente non aveva negato l'edificabilità. Se la Cassazione vi dà ragione, però riprendersi soldi dall'azienda diventerà un problema anche quello. Infatti si era chiesto una fiduzione proprio per questo. Ci auguriamo che si tratta di un'azienda seria, il patrimonio sembra che ci sia a copertura di questa questione, di questa trattativa e vediamo un po' se riusciremo poi a recuperare queste risorse che per noi sono oro colato.